Ben trovati all'appuntamento con Detto il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana, un tema in apertura molto importante, molto sentito e d'attualità. Ma è veramente tutto da seguire questo nostro appuntamento, andiamo per ordine perché il primo argomento riguarda la violenza dei femminicidi, un minuto di rumore, il ricordo delle vittime, l'illuminazione da sede del Palazzo del Pegaso e le scarpe rosse in aula. E poi è stata approvata l'ottava variazione di bilancio del Consiglio regionale, la discussione sull'avanzo di 1.700.000 euro e sulla destinazione dei mondi delle zone alluvionate. Il primo argomento ci porta all'attualità, non un minuto di silenzio ma un minuto di rumore. Un minuto di rumore del Consiglio regionale per ricordare Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa dal fidanzato nei giorni scorsi e per le altre donne vittime di femminicidio. E al centro dell'aula sopra la bandiera con il Pegaso, lo vediamo adesso, un paio di scarpe rosse. E invece andiamo all'estero perché il Palazzo del Pegaso è stato illuminato la sera di rosso fino a sabato 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Queste sono le iniziative simboliche attraverso le quali il Consiglio regionale della Toscana vuole testimoniare la ferma condanna delle violenze dei femminicidi, i cui numeri continuano a crescere tragicamente la solidarietà ai familiari delle vittime. Lo ha deciso l'Ufficio di Presidenza dopo il caso di femminicidio di Giulia Cecchettin, la cui vicenda occupa ovviamente le cronache dei giorni. Ma viviamo il momento di rumore dell'aula e poi ascoltiamo anche i consiglieri regionali. Grazie a tutti. Ho chiesto un minuto di raccoglimento dopo aver letto una delle frasi che è stata letta dalla sorella di Giulia Cecchin e che parla del patriarcato perché è una riflessione che ciascuno di noi può e deve fare perché ci possono essere mille leggi, decreti, si possono inasprire le pene ma nulla sostituirà una cultura del rispetto della persona che è indispensabile e che senza la quale non ci può essere nessuna legge e nessuna costrizione che possa insegnare alle persone, agli uomini, ma vale per tutti quanti, il rispetto del prossimo. Il femminicidio è un delitto orribile perché è contrario all'umanità e soprattutto la cosa più terribile è che è il frutto malato di una società che non, come è stato detto, non vede e non deve vedere in queste persone dei mostri, delle persone che sono isolate e che quindi in qualche modo vanno contenute. Perché lo ripeto ancora, ciò che avviene, lo stalking, i maltrattamenti delle donne è il frutto malato di una società che non riesce a considerare le due metà del cielo equidistanti e soprattutto alla pari. Quindi dobbiamo fare uno sforzo ciascuno di noi come istituzioni ma anche come singoli. Questo spero che sia il messaggio che riesca a parlare e soprattutto che ogni femminicidio che accade fosse anche uno è sempre troppo, è sempre una sconfitta dell'intera società, uomini e donne. Un gesto significativo che vuole tenere accanto a noi Giulia, Giulia e non solo, tutte le donne che subiscono una violenza, le scarpe rosse al centro dell'aula, l'illuminazione del palazzo di colore rosso, sono dei segnali che noi annualmente facciamo nella settimana che ci porta il 25 di novembre. Quest'anno ha un significato particolare, motivo per il quale il Consiglio regionale ha voluto urlare, non stare in silenzio e manifestare la propria contrarietà e manifestare tutta la propria vicinanza a tutte le donne e per questo siamo stati impegnati nel ricordare accanto a noi e tenere quella sedia accanto a noi come se oggi Giulia fosse presente nel nostro Consiglio regionale. La violenza sulle donne, la violenza domestica è sicuramente un fenomeno ancora troppo largo, anche se abbiamo proposte di legge, obiettivamente il problema è un problema culturale, di informazione, di preparazione alle nuove generazioni femminili, ma direi non solo femminili. Io credo che dovremmo ripartire anche da una cultura sul genere maschile, il genere maschile che deve ritrovare un suo ruolo, deve abituarsi a una compagna che è diversa da quella di un tempo, quindi il problema è un problema obiettivamente culturale. Io nella mia esperienza, essendo un medico di pronto soccorso, sono stata spesso a contatto di quelli che sono i maltrattamenti domestici. Ho fatto parte del Codice Rosa, venendo dalla provincia di Grosseto, quello è stato il primo nucleo del Codice Rosa, che poi si è ampliato e che è stato esportato come modello in tutto il mondo. Io ho conosciuto donne che per un pugno hanno avuto la mandibola rotta, donne che per uno strattone hanno avuto il polso rotto e devo dire la verità che molto spesso, specie se si parla di località più piccole, magari più che l'abuso e per fortuna più che il femminicidio, quello che succede più frequentemente è il maltrattamento. Io oserei dire che il problema comincia da lì, quindi intanto riconosciamo i segni di chi sta accanto a noi e quando un uomo si accorge di avere una rabbia intensa verso quella che è la propria compagna e le sue abitudini, deve sapere che ci sono dei centri per gli uomini maltrattanti in cui si impara, dove gli uomini possano imparare a gestire in maniera diversa la loro rabbia. Ci sono diversi ambiti secondo me dove si forma quella che è la cultura del rispetto, anche nei confronti delle figure femminili. La famiglia sicuramente è un caposaldo su cui oggi onestamente quando sento parlare di rimettere in discussione il patriarcato ho qualche dubbio perché molto spesso quella famiglia arcaica, quella famiglia che rappresentava dei valori, delle tradizioni che oggi appunto viene liquidato con la nozione di semplice patriarcato, un tempo rappresentava forse un nucleo di valori, un nucleo di principi che forse si sono persi nel tempo e che forse oggi credo dovremmo recuperare anziché andare a trovare un capo ispiratorio, ripeto, non rendendoci conto invece che lo sfaldamento anche della famiglia ha contribuito anche a sfaldare certi valori e centi punti di riferimento. È chiaro che in un contesto in cui tutto quanto è stato relativizzato, compreso la possibilità oggi di un adolescente di dichiararsi uomo o donna a seconda della sua sensibilità del giorno, viviamo in un mondo in cui purtroppo anche la violenza nei confronti di una ragazza, una violenza che si è manifestata in modo brutale, di un giovane del quale potremmo indagare all'infinito le motivazioni, ma non riusciremo mai a comprenderle fino in fondo se non guardandoci davvero intorno e interrogandoci tutti, anche come genitori e anche nel momento in cui i nostri ragazzi, i nostri bambini vanno a scuola, su ciò che noi riusciamo a trasmettere loro, perché questa è la nostra vera sfida, una sfida culturale, una sfida familiare, una sfida di recupero dei valori complessivi. Io credo che se facciamo tutti quanti uno sforzo, al di là di quelli che possono essere gli interventi normativi, forse riusciamo a bloccare questa deriva e questa relativizzazione di valori, perché oggi io credo che veramente è questo l'allarme più grosso che abbiamo nei confronti di tutti i nostri adolescenti, ma penso anche a tutti quei bambini che vivono una dimensione di infanzia ingenua, ma che fin da piccoli devono capire che all'interno dei nuclei familiari ci sono delle regole, dei principi ben precisi. Quindi è una sfida culturale importantissima. Cambiamo argomento, è stata approvata l'ottava variazione del bilancio di previsione finanziaria del Consiglio regionale per il triennio 2023-2025, con 22 voti favorevoli del Partito Democratico e di Italia Viva, due voti contrari del Movimento 5 Stelle e Forza Italia e cinque astenuti fratelli d'Italia. La delibera registra un avanzo di 1.700.000 euro, di cui 1.300.000 euro in conto capitale e 400.000 euro di spesa corrente, che è stato oggetto di due ordini del giorno presentati dal Consigliere Marco Stella e Forza Italia, segretario questore dell'Ufficio di Presidenza. Sono stati dichiarati inammissibili dal Vice Presidente Stefano Scaramelli, che in quel momento presideva l'Aula. Ma ascoltiamo. La variazione in questo momento prevede la semplice allocazione delle risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione del 2022 su un cosiddetto fondo leggi di parte corrente e di parte in conto capitale. La priorità che l'Ufficio di Presidenza si è data è quella di offrire un proprio contributo consistente a favore delle comunità colpite dall'alluvione. Ne studieremo poi insieme le modalità, ma certamente questa rappresenta una priorità per tutti. Ci dispiace che qualcuno abbia preferito strumentalizzare questo passaggio facendo passare un messaggio assolutamente non vero, cioè quello che non fosse una priorità per tutto l'Ufficio di Presidenza. Fare questa variazione vuol dire esattamente poter spendere soldi nella finalità e nella modalità che ho detto. Votare contro questo atto vuol dire non mettere le risorse a disposizione. Sono in tutto 1.700.000 euro, in questo momento 1.300.000 di parte in conto investimenti e 400 in conto corrente. Vediamo poi appunto come il Consiglio deciderà di intervenire dando massima priorità ovviamente alle comunità colpite da questo evento così disastroso. Questo avanzo a seguito di questa variazione di bilancio, l'ottava, quest'anno ci siamo anche contenuti con il numero delle variazioni del bilancio, vedrà 1.300.000 euro per la parte in conto capitale, 400.000 euro in spesa corrente. Queste sono le due voci. Quindi un provvedimento di natura sostanzialmente tecnica per determinare prima che scadesse le termini come poter avere le cifre precise delle due parti. Si sottintende ovviamente la questione di come destinare l'avanza ed è per questo che noi siamo ancora in attesa perché è vero che dobbiamo assolutamente ricordare le straci nazifasciste dando adeguate risorse, ma oggi ci viene nel cuore l'esigenza della priorità delle spese per gli alluvionati. Quello che ha subito la regione toscana merita una risposta immediata. Quindi per il momento ci siamo collocati in una posizione di attesa per vedere cosa concretamente si potrà fare nelle prossime settimane negli uffici di presidenza. Dobbiamo trovare una soluzione che possa davvero tenere conto delle varie esigenze. Questo è successo in Consiglio regionale ma oggi è soltanto una tappa di un percorso che dovrà essere compiuto nelle prossime settimane. Purtroppo la gestione della variazione del bilancio del Consiglio regionale e si è visto anche dal dibattito e dalla discussione aspera che c'è stato. È sempre più una spartizione di quote e di cifre che avviene fra i presenti all'ufficio di presidenza dove sono presenti tutti persino il monocellulare Forza Italia tranne il Movimento 5 Stelle che da dieci anni viene tenuto sia dalla maggioranza che dalle opposizioni fuori dall'ufficio di presidenza dove avvengono anche queste spartizioni. La nostra contrarietà quindi sta fondamentalmente in questo merito saremo ben contenti di votare a favore se troveranno il modo di mandare interamente quel denaro ai colpiti dall'alluvione. Però naturalmente va fatta una considerazione generale anche per quanto riguarda quella che è la variazione di bilancio che stiamo per fare adesso. Abbiamo fatto un voto d'astenzione in attesa della vera discussione che ci sarà nelle prossime settimane ovvero a che cosa destinare 1.700.000 euro di avanzo del Consiglio regionale. Fratelli d'Italia su questa l'idea è molto chiare. Noi pensiamo che essendo una cifra in avanzo cioè quello che è avanzato rispetto alle funzioni del Consiglio regionale debba essere destinata per l'intero a sostegno ad alleviare le sofferenze delle popolazioni, delle famiglie, delle imprese colpite dagli eventi calamitosi di inizio novembre. È una vicenda epocale paragonabile purtroppo probabilmente soltanto all'alluvione di Firenze degli anni 60. Rispetto a questo ci vuole una iniziativa straordinaria. Quindi al Consiglio regionale è avanzato 1.700.000 euro rispetto ai soldi che avrebbe potuto spendere. Quei soldi si destinano tutti a alleviare le sofferenze delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'inizio novembre. Dove andrà l'avanzo di amministrazione del Consiglio regionale? Abbiamo un tesoretto da 1.700.000 euro. Per Forza Italia, unica forza politica ha sostenuto questa tesi in Consiglio regionale. Quell'avanzo di amministrazione deve andare completamente alle famiglie, alle imprese, a coloro sono stati colpiti dagli eventi alluvionali del 2 di novembre. È stato per la nostra regione un disastro, un tessuto economico in crisi, 4 miliardi di danni, ancora molte famiglie fuori casa, ci sono famiglie che non hanno più niente. Noi diciamo che quel tesoretto lì deve andare agli alluvionati. Il centrosinistra ci continua a dire no, di quel tesoretto lì soltanto un milione, un milione e duecento deve andare agli alluvionati e 500.000 euro, 400.000 euro devono andare per la ricorrenza degli 80 anni della liberazione dal nazifascismo. Noi pensiamo che quella ricorrenza lì, per quanto riguarda Forza Italia, per quanto riguarda il sottoscritto, che ha sempre partecipato al 25 aprile, all'8 d'agosto, alle liberazioni, a tutte le liberazioni che è andata a Sant'Anna e Stazema, sia essenziale ricordarlo. Ma questo è un momento difficile, è un momento dove le imprese hanno perso tutto, 4 miliardi di euro di danni in Toscana e noi si mette mezzo milione sulla ricorrenza, che è seppur importante, ma che in questo momento, per quanto ci riguarda, doveva essere considerata in maniera diversa. E questo era anche l'ultimo argomento per questo nostro incontro settimanale, vi ricordo per tutti gli aggiornamenti e le informazioni c'è il sito interi, www.inconsiglio.it. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento la prossima settimana, quando saremo ancora insieme, dentro il Consiglio.